Siego K.O. in una gara contro il Castellano abbordabilissima. Assenti, come di consueto a parte, gli ortonesi perdono al tie-break dilapidando un'occasione d'oro per piazzarsi al terzo posto, preziosissimo per la griglia a play-off. Invece devono accontentarsi addirittura del quinto, che obbligherà peraltro i ragazzi di Lancia a vedersela con la corazzata a Siena il prossimo 11 aprile, stessa data che in A3 vedrà l'Abbapineto ospitare nei play-off la Versa. Non prima di chiudere, dopo il successo di AC Castello, la prima fase contro la capolista Grottazzolina, punti in palio che servono solo i marchigiani per il piazzamento, ma il sestetto di Rosichini è chiamato a una prestazione d'orgoglio. In B perde l'alba, macerata secondo pronostico, fermo il paglieta, in B uno femminile, il derby nelle immagini va a un altino straripante, fa eccezione il secondo set, e rafforzato dalla Lestini, ex teramo ed ex di turno, contro una teatina poco esperta e apprezzabile solo nella citata seconda frazione. In B2 l'altro derby, spettacolare, e appannaggio 3-2 di una determinata gada Pescara 3, a spese di un'impianti futura con alti e bassi. Stenta, ma vince a fermo sul filo di lana, una rabona deconcentrata e non brillante come al solito. Le manopellesi, nelle immagini sempre seconde, perdono lievemente contatto dalla vetta, ora a meno due. Stenta, ma vince a fermo sul filo di lana, una rabona deconcentrata e non brillante come al solito.